A Fossombrone una strada che porta in un luogo di culto come un monastero di Fratti Cappuccini, un luogo che dovrebbe ispirare pace, invitare alla meditazione ed al raccoglimento e ad un contatto col verde più ravvicinato, è utilizzata da diverso tempo da alcuni scellerati come posto invece ideale per una discarica a cielo aperto. Questa mattina dopo alcune segnalazioni siamo stati assieme al sindaco in strada Fratti Cappuccini e dopo alcune curve lo scempio appare in un'isola ecologica tra le altre cose dotata anche di telecamera per riprendere proprio i furbetti del cassonetto da poche ore è stato lasciato lì di tutto, un asse da stiro, bambole vecchie, un vaso di fiore, materassi, vecchi, reti con tanto diletto alla faccia dell'isola ecologica, ma il peggio deve ancora arrivare, due curve più su, in uno slargo, materiale di risulta da ristrutturazioni edili inerti quindi come vengono chiamati in gergo, sono ammassati in diverse montagnole, segno che abitudine ormai consolidata lasciarli lì. Questo è un punto in cui già più volte siamo intervenuti, anche adesso sono già venuti i nostri tecnici a capire che tipo di materiale è, perché oltre a quello che vedete c'è qualcosa anche più giù e lì occorre anche delle attrezzature particolari, però ecco quello che dicevo, la paura mia è che se interveniamo oggi fra pochi giorni ci ritroviamo in questa situazione, chiaramente è impossibile monitorare interamente il territorio, noi ci stiamo provando, abbiamo installato di recente delle telecamere nelle isole ecologiche perché anche lì c'è un abbandono selvaggio per cui la volontà e l'impegno c'è, è chiaro che qui serve la buonsenso e la collaborazione dei cittadini, altrimenti è una battaglia persa in partenza. Purtroppo un comportamento senza senso, perché comunque abbiamo un servizio di raccolta rifiuti anche a domicilio, anche su pronotazione, quindi rifiuti ingombranti vengono a ritirarli. Abbiamo uno spiazzale, il piazzale Giovanni Paolo II, in cui ogni sabato mattina Aset ritira rifiuti di qualsiasi tipo, per cui non c'è veramente giustificazione, però purtroppo è un fenomeno che temo che riguardi un po' tutti i territori. Grazie.